Quante uova colorate! Con tante sorprese dentro! Io ho tanta fame! Ma allora che ne dite se andiamo prima a mangiare e poi apriamo le uova? Sì! Andiamo! Ma quanta buona cioccolata! Io la mangio tutta! E anche io ne voglio! Anch'io! Allora tieni, tieni, tieni! Poi tieni, tieni! Questa è rimanente vabbè! Anche io! Ne ci sono due pezzi! Ne abbiamo! Otto! Abbiamo otto pezzi! Quanto buona! Certo! Pag Scotto Pagnotare 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 ne Grazie a tutti. Ah, che buono che era quel cioccolato! Che buone! Ora, che ne dite di andare ad aprire le uova e vedere tutte le sorprese? Sì! Vai, andiamo in fila! Così! Vai, apriamo la porta! Vanessa, ma tu hai un'altra malinca! E anche tu, Erika! E anche tu! Io ce l'ho gialla! Tu, viola, e te ce l'hai sti! Ma perché? Andiamo a vedere le nostre uova! Deve essere le nostre uova di Pasqua! Non ci sono più! È vero! Ha trovato un biglietto! Leggiamolo! Cosa c'è scritto? Dovete trovare le uova nel vostro colore della maglietta. Entro le 24 ore! Se no, non scoprirete mai più che regali erano dentro le uova! E se noi le troviamo in 24 ore, cosa facciamo? Dobbiamo trovare le nostre mamme! E dobbiamo trovare anche le uova! Vai, andiamo a cercare le nostre mamme! Qua non c'è! Mamma, sei qua? Ragazzi, non è neanche qui! Andiamo a vedere qua! Non ce n'è neanche in camera! Sono ben andata! Mamma, sei qua? Non ce n'è neanche qua! Neanche lì? Dove sono? Forse sono fuori! Andiamo a vedere! Mamma, 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 mamma! Ragazzi, ecco il successo! Ma scusate, non te la mette! Ma l'ho vista, guarda, è una maglietta colorata! Ma il rancione? Ma il successo? Anche noi! Cosa è il successo? Tu, il genetico, il giallo, il bianco! Ma come vai? Ma come ho scritto una lettera! E infatti, ci hanno arrivato le uova! Quale uova? Quale uova? Con delle sorprese dentro! Sorprese? Andiamo subito! Ma che uova? Non le vedremo più! Guardate! Come so metterla? Dovete trovare le uova nel vostro colore della maglietta entro le 24 ore, se no, non scoprirete mai più che i regali erano dietro le uova! Oh, santo! Mamma mia! E qui... Ma... Ma chi è che ha preso le uova? Non ci sa! Non ci sa! Non c'è nessuna firma? Niente? Niente dietro! No! E ora dove sono nascoste queste uova? Sono sempre nascoste! Sì! Allora! Allora... Nel nostro colore! Ah! Anche le magliette? Sì! Allora iniziamo a cercare dove possono... Dove possono essere? Eh! Bella domanda! Bella domanda! Io avevo visto un uovo però non è del mio colore e non posso fare lo del mio colore! Dov'è? Guarda! Del mio! Ha ragione! Vai! Ho trovato il mio colore! Vai! 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 Che bello! Ma Vanessa ha trovato il fuoco! Ma è stata proprio bravissima! Brava! In verità non l'ho trovato io! Me l'avete detto voi che questo era il mio uovo! Però ci siamo! Andiamo! Andiamo! Vai! Andiamo! Ci chiamo coltosante! Ma Vanessa ha trovato un altro! Ha trovato un altro uovo! Brava! Brava! Non è il tuo! Io voglio! Io voglio! Non è il tuo! Il mio uovo! Ferocce! Dai! 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 No! Dove saranno? Dove sono? Qui? No! Qui non c'è solo della cacchia! Ma è qui? No! Qui non c'è nulla! Qui? No! Ma ha trovato un uovo! Davvero! Brava! Dove lo vedrete lì? Ma dove sono? Dove ho trovato un uovo! Ma dove sono? Io ho trovato un uovo! Ed è del mio colore! Che bello! Lo vado a appoggiare anch'io! Vai cercando le uova! Vai! Appoggiamole! Sono quattro uova! Ne mancano sei! Sì! Sì! E devo cercare un uovo! Sì! Non c'è! Ma qua! Ma ci abbiamo mangiato lì! E quindi le uova qui non ci sono! No! Le erano solte nessuno qui! Però è impossibile! No! Aspetta! Avete mangiato qua? Sì! Sì! E quindi noi eravamo giù! Quindi giù non ci sono! Sì! E neanche qua! Quindi neanche! E quindi dove sono? In camera e in bagno! Avete ragione! Ma allora dovete cercare meglio! Perché se... Ehi! Le uova sono lì! Mamma io prima e in bagno ho visto una uova! In uno? Sì! Ma perché non me l'hai intesa? In una rosa! Anche io l'ho vista! No! Andiamo! Andiamo! Dove? Lì! 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 Eccolo! Ho trovato! Eccolo! Un altro uovo! Un altro uovo! Ce ne mancano cinque! Brava! Cinque uova! E ci mancano cinque! Ragazzi! Sono cinque uova! E ci mancano cinque ore! E se non li troviamo? Eeeh! Non so cosa poterà succedere! Eeeh! Nessuna sorpresa! Nessun uovo! No! Dobbiamo cominciare a cercare! Sì! Allora qua sono i libri! Io provo a trovare! Nel bagno non c'è più nessuno! Mi sa che no! Uovo! C'è qualcuno qua? No! Uovo! Non c'è nessuno! No! Qui non c'è niente! Mi senti forse? Sì! Cercate ragazzi! Cercate! Qua! Qui? No! Forse qua! No! No! Questa aveva trovato un uovo! Sì! Ma questa come vedete ha trovato due uova del colore che colore che colore è? La nostra maglietta! Blu! Brava! Ci mancano ancora? Eh! Dove sono? Dove sono? Io devo trovare uno del mio colore, uno del tuo, uno del tuo e uno del tuo. Allora, ci mettiamo a lavorare! Ci mancano solo un uovo del colore della nostra maglietta! Mi mancano qua! Uova! Dove siete? Eh! Fatevi vedere! Mi prego! Un uovo! Spero che ci sia quella cioccolata! Sì, anche io spero che ci sia la cioccolata! Ah! Un chiave o l'uovo! Ci sono! Chi sei? Eh! Allora! Ce la posso fare! All'etto! Non c'è! No! Vai! Senti! Senti! Prova a controllare meglio! Non c'è! Non c'è! Ah! Non c'è! Ok! Questo sarà un uovo! Lo potrò fare anch'io! Qui non c'è! Qui forse! Neanche! Però dove sarà? Lo posso controllare bene il bagno! Anch'io! Io non trovo nulla! E questo è mio! Lo porto via! Qui sarà? Quando è? La cartella! Certate! Aprile! C'è un uovo! C'è un uovo! Eta! C'è un uovo! C'è un uovo! Prova! Prova! Allora! Quindi! Ci sono due! Viola! Dovevo trovare il suo blu! E qui! Qua cosa c'è? Vediamo! Un uovo! Apriamo bene! Apriamo questa cartella! Eccoci! Vediamo! Vediamo! Ecco! Uno giallo! Sì! Uno giallo! Uno giallo! E sotto i cuscini! Allora! Cerchiamo! Sotto i cuscini! Vediamo qua! No! Non c'è! Io! E con te le cuscini! Un altro uovo! 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 Allora! Vediamo quale manca! Quello! Arancione! Arancione! Ma con quello arancione! Sì! Non è giusto! Te quante uova hai trovato? Due! Te quante uova hai trovato? Due! Te quante uova? Anche io due! Cioè! Due! 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 Uno! Io sono un uovo! Mi aiutate! Perché mi vede? È il mio toglie! Io voglio un uovo! È il mio bello! Io voglio trovare i miei armati! Grazie! Andiamo! Ho trovato una! L'ho trovato! Ho trovato! Ho trovato! Eccolo Trappato Ho due uova Ma che bello E quindi ragazzi cosa facciamo? Le apriamo Le apro le mie E io le mie Scusate Allora io ho due uova Ma quelle due uova di chi sono? Per la mamma Allora scusa mamma Elena dov'è? Mamma Elena Ma che fai? Mi trovate tutte le uova Ma come hai fatto a essere caduta? Eh è venuta troppo veloce Ma a mia planeta Tutte le uova di chi sono tua Ma le prendo Ma le apro Questo È un unicorno Ma che bello Che bello Ma non c'è È bellissimo Aspetta Mi manca ancora un fuoco Oh Erika Vediamo Cosa c'è Cosa c'è Che smalti Wow Allora io prendo il rosa Posso prendere il rosa? Io ho caldo Ehi Quello è il rosa Tu prendi le ragioni Sono bellissimi Sono bellissimi Che bello Giallo Adesso Stacca a me Tocca Vanessa Grazie Sono bellissimi Questi smalti Allora Apri Quale Puoi prendere quello? Vediamo Un cioccolato Wow Dentro un uovo c'è un altro uovo E quindi È il cioccolato Dentro quell'uovo C'è un uovo Eh no Oh Oh C'è Vediamo Che buono il cioccolato Vediamo cosa c'è Oh Una sirena Che bello Wow È un bracciale Guardate quanto è bello Questi braccialetti Bello Con una sirena Vediamo È proprio una sirenetta Bellissimo E ti manca un uovo Dov'è? Eccolo Un uovo Pappi È il Pappi Io voglio aprire il mio uovo No C'è anche tocca a lei dopo te Va bene Dai E io Ultima Ultima E io Dai Dai Apri tocca a te Ok Inizio da questo Una brazzetta Con un orso Apriamo Tanti anelli Guardate Tanti anelli Prendete Prendete tutti uno Allora Io ho preso uno Vediamo Io prendo uno Io prendo questo cuoricino Che ha il colore Che belli Sono stupendi Me ne date uno Anche a me E vediamo Gli anelli Guarda ragione Guarda ragione Quanti anelli Che voi avete dato Io ho giallo Un uovo Non c'è Bellissimi Che belli Ora apri un secondo uovo Dei rossetti Che bello Che belli Guardate Sono tutti glitterati E rosa Io non so Chi è stato A nascondere Le uova Forse è stato Il coniglietto Il coniglietto Di Pasqua È vero Che c'è Il coniglietto Di Pasqua Io ho visto E ho sentito Anche le storie Di quelle un po' Orfine Ma quelle di paura Sì Cos'ha detto Ma no Secondo me Questo coniglietto È buono Perché Avete visto Ce le ha lasciate Comunque le uova Sì Quale aprire Quale aprire Questo qua Cos'è Stiamo scherzando Ma il pepe nero Questo Ma quale sorpresa Mi ha messo qua dentro E chi mi ha messo Questo pepe nero Non lo ispirare Perché mi hanno detto Che Fabri lì Stanno Io te l'avevo detto Però Chiudo Chiudo Non voglio Di me viene Dai Appena bruci Sei fortunata Sì Incrociando Le dita Sì 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 Dai Un gesso Un gesso Che devi fare Con il gesso Devi scrivere Hai la lavagna No Forse Una Non lo so Allora Posso aprire i miei Sì Sì Apri tua Vabbè Allora 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 Vediamo Vediamo Io apro Io apro Io apro Io apro Apri questo Ok Vediamo cosa c'è Cosa c'è Eh La cacca igienica Ma che ti serve Ma Io Sei raperata No Voglio andare in bagno Mi scappa la cacca Mi scappa la cacca È per quello Te l'ha messa Non è un bel regalo Però Non è un bel regalo Anche me Anche me Non è un bel regalo Vediamo che ci sia un uomo Di cioccolata Perché io voglio la cioccolata Cos'è 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 C'è la cioccolata C'è la cioccolata No Ma io non ho la febbre Ma cosa Ma pensavo che avessi fatto i baci Con la febbre C'è ma No Bene Me la misuro Ma non è A me questo Questo coniglia Non mi piace 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 A me sì A me è stato Guarda Avete ricevuto De bellissime regali Ho un po' di febbre Io Ho un po' di febbre Ho comprato il coniglio Io vado a casa Anche io Io riprendo il gerso E vado a colorare Così sarò più felice Non stare qua in casa Anche io Io vado in bagno Ci veniamo dopo Magari sarà una mezzoglietta Però prima Salutiamo i nostri cucini Speriamo che questo video vi sia piaciuto E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Di attivare la campanella E di lasciare tantissimi like Fatelo Ciao 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 Vi mandiamo tantissimi bacini E tanti tanti Cuoricini Ciao Ciao